Ciao ragazze, in questo video volevo farvi vedere un po' di cosine dell'astra sono quattro cose dell'astra che ho preso in realtà sono tre cose dell'astra e una dell'oreal che ho preso praticamente in un negozio, in una profumeria di un paese qui vicino al mio che non avevo mai visto a Roma, nei negozi che vendevano astra o nelle profumerie di Roma e quindi ho deciso di prenderle per provarle vi devo dire però prima un paio di cose partiamo col presupposto che io pensavo di poter ritornare a Roma a settembre e di rimanerci invece per diversi motivi non posso, devo rimanere qui e quindi per me sarà un po' più complicato caricare video con la videocamera di conseguenza ricomincerò ad utilizzare la webcam quindi mi dispiace perché comunque non riuscirò a farvi vedere bene un po' tutto però spero che riesco nel mio intento di poter continuare a portare avanti il mio canale in maniera abbastanza buona e che non vi deluda per il semplice fatto che non ho una videocamera o comunque non ho una visione buona, una qualità buona dei miei video poi comunque col tempo vi spiegherò il perché rimango qui e non torno a Roma almeno per un periodo di tempo poi volevo ringraziarvi perché ho visto che in molte state partecipando al giveaway che ho indetto per chi si fosse persa il giveaway vi lascio il link da qualche parte qui nel video o comunque giù nel box informazioni e avete tempo ancora una quindicina di giorni, 13 giorni più o meno e poi volevo ringraziarvi perché le iscrizioni comunque stanno salendo anche se io non ho caricato più video e questo mi fa molto piacere e poi anche perché vi volevo ringraziare anche da parte del mio ragazzo perché ho letto che comunque molti di voi volevano vedere le sue sculture erano molto curiose dei suoi lavori appena avrò tempo giuro che vi farò vedere i suoi lavori perché adesso non so come caricare le foto visto che nella mia sbadataggine ho dimenticato il cavetto della macchinetta fotografica a Roma a casa mia e quindi non posso caricarlo e per adesso non credo di tornare a Roma almeno a breve per il resto tutto a posto, le vacanze procedono io vi ringrazio per i vostri commenti siete sempre carinissime e niente, bando alle ciance e passiamo al video haul allora vi faccio vedere prima di tutto il prodotto della L'Oreal che è un rossetto ed è questo della linea Studio Secret della linea Studio Secret della L'Oreal ed è praticamente un rossetto trasparente sull'arancione come vedete questo rossetto praticamente ha la capacità di uniformarsi al colore delle labbra e diciamo è un po' come il lucida labbra della Essence che è uscito un po' di mesi fa che prendeva il colore praticamente delle labbra in funzione della persona che lo utilizzava quindi andava in base alla pigmentazione delle labbra questo rossetto praticamente più o meno ha la stessa funzione solamente che anziché essere un lucida labbra è un rossetto la consistenza è lucida come potete vedere e voi dalla webcam lo vedete arancione in realtà è un rossa carminio diciamo più o meno e questo l'ho pagato 11 euro io non so se è una cosa che è uscita da poco o se è una cosa che è uscita talmente tanto tempo fa perché qui è un po' complicato trovare cose recenti essendo tutti i paesi non essendo grandi città per arrivare a comprare qualcosa di recente devo arrivare a Viterbo che comunque è a 50 km quindi così e questo è il rossettino della L'Oreal a me piace tantissimo perché comunque quando magari si è in giro o non so si è indecisi su quale rossetto mettere questo praticamente dà un buonissimo risultato perché comunque si uniforma il vostro colore delle labbra e sta benissimo con qualsiasi make up quindi io se l'ho riuscita a trovare provatelo perché è molto molto carino poi dell'astra invece ho preso queste tre matite queste matite sono allora io dell'astra praticamente non ho nulla tranne che il mascara quello blu quando ho visto queste matite automatiche soprattutto ho detto le devo assolutamente prendere c'erano tantissimi colori queste vengono 3 euro in una c'erano tantissimi colori io alla fine ho preso questi tre colori qua ho preso il numero 06 che è questo dorato ho preso il numero 02 che è questo verde scuro verde petrolio e poi ho preso il 03 che è questo celestino chiaro a parte la particolarità che per 3 euro queste matite sono lunghissime guardate sono grosse quanto oltre la mia mano praticamente in più hanno sono automatiche quindi voi girate qui sotto e la matita esce e in più hanno lo sfumino dietro questo sfumino qua in lattice e in più hanno anche il loro temperino che permette di appuntire le matite io le ho provate intanto ho provato queste due ho provato la celeste e ho provato la verde petrolio devo dire che sono molto pigmentate molto scriventi si mantengono perché comunque sono waterproof io infatti le avevo prese proprio per questo motivo perché volevo cercare delle matite waterproof e devo dire che mi ci sono trovata molto molto bene ovviamente all'interno della rima dell'occhio non scrivono però si mantengono tantissimo nell'occhio nella palpebra e secondo il mio parere visto che sono morbide non sono durissime possono essere usate benissimo anche come base io penso che tornerò in questa profumeria e mi prenderò praticamente anche gli altri colori perché sono veramente pigmentate ora vi faccio gli swatch velocemente così potete vederli una due e tre questi sono gli swatch aspettate che li metto a fuoco così potete vederli bene eccoli qua questi sono gli swatch allora questo è il celeste che è molto molto bello riflette tantissimo la luce poi c'è poi c'è il verde petrolio bellissimo anche questo super pigmentato e poi c'è l'oro che ovviamente sulla mia pelle abbronzata si vede solamente il riflesso perché è praticamente lo stesso identico colore della mia abbronzatura quindi è un po' difficile vederlo però quando la abbronzatura se ne sarà andata si vedrà benissimo e vi devo dire la verità mi sono piaciute molto di più delle matite di Essence quelle della linea Sun Club e delle non-lasting io adesso visto che non ho la possibilità di prendere Essence perché qui praticamente non c'è devo trovare delle alternative perché non posso andare a Roma a comprare la Essence e poi ritornare perché comunque sono due ore di macchina quindi questa secondo me è una valida alternativa e io la consiglio anche a scusate e io la consiglio anche ad altre ragazze che magari non hanno la Essence ma hanno l'Astra perché secondo me queste matite sono una valida alternativa per le matite di Essence perché comunque sono pigmentate allo stesso modo anzi secondo me sono anche più pigmentate e soprattutto sono waterproof e durano veramente tanto veramente e queste come vi ho detto le ho pagate 3 euro l'una e niente ragazze questo era tutto io vi saluto e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao